Il neo presidente della giunta regionale ha promesso stamattina che nel suo entourage, nella sua squadra, non ci saranno né indagati né inquisiti né impresentabili. Dai nomi che stanno scatturendo dalla stampa non credo che questo corrisponda alla verità e non sto parlando di Francesca Barraggio ma di altre persone. Arrivederci.